Cari amici, sono lieto di porgere il mio saluto cordiale in questo primo anniversario della Dichiarazione dei Panunjong per la pace, la prosperità e l'unificazione della penisola coreana. Possa questa celebrazione offrire a tutti la speranza che un futuro basato sull'unità, sul dialogo e sulla solidarietà fraterna sia realmente possibile. Attraverso sforzi pazienti e perseveranti, la ricerca dell'armonia e della concordia può superare la divisione e la contraposizione. Prego che questo anniversario della Dichiarazione di Panunjong possa portare a una nuova era di pace per tutti, per tutti i coreani. E su tutti voi invoco l'abbondanza delle divine benedizioni.